La mattinata è stato diffuso un avviso alla popolazione relativo a un possibile rischio di esondazione del lago nella notte tra mercoledì e giovedì, non vogliamo creare allarmismo ma è bene informare la popolazione, visto il livello moderato di allerta ci stiamo attivando per una serie di attività di prevenzione in modo da affrontare i possibili rischi preparati. Sono in distribuzione questi avvisi nelle zone più a rischio e sono disponibili anche sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune in modo da assicurare un'informazione più puntuale possibile.